La bella storia di una delle pasticcerie italiane più antiche di New York ci conduce in un vero e proprio viaggio nella grande storia dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Tra le pagine e personaggi di questo libro si ritrovano emozioni, sentimenti, odori, sapori e abitudini della vita quotidiana degli italo-americani e degli italiani che vivono a New York dalla fine dell'Ottocento e hanno contribuito fino ad oggi a creare il mito della grande mela. Proprio come Antonio Veniero, partito da Napoli nel 1885 per cercare fortuna, che non avrebbe mai pensato di legare il nome della sua famiglia, ormai da oltre un secolo, alla città simbolo dell'American Way of Life.